e allora l'otto 377 200 monete del regno d'italia circolate più di così non ho come farvele vedere sono tutte in rame sono scure purtroppo le monete sono veramente difficili da farne da far vedere nei video vuoi per i riflessi alla luce lo stato di conservazione come potete vedere è molto misto comunque tutta roba circolata è quasi tutto prevalentemente di vittorio emanuele terzo se volete altri video informazioni scrivete a filateli a chiocciola 4 baiocchi.com